Dalle foreste casentinesi non ci sono ancora notizie del 19enne disperso questa mattina. Una situazione stranamente analoga ai fatti del 58, ad oggi ancora irrisolti. Pare che il gruppo di amici si trovasse sulle sponde della gorga nera, quando, come allora, una scossa di terremoto sembra aver fatto cadere il ragazzo nello stagno. Sono passati 70 anni in cui non ho mai smesso un giorno di cercarlo. Perché c'è qualcun altro in questa foto? Io sono riuscito a tornare, ma qualcuno non è stato affortunato come me. Tornare da dove? Benvenuto dall'altra parte della gorga nera. La terra trema ed esce dal buio la bestia suprema. L'occhio non cada su quel diamante che d'ogni serpente lo fa regnante. Col suo vagliore tutti attira. E rende immobile chi lo mira. Non credevo. Avrei dovuto affrontarli di nuovo. Credi nelle leggende? Sarà bene che inizia a crederci. Sei stato risucchiato laddove abitano tutte le creature delle leggende. Il badalischio adesso può richiamarle dall'altra parte. E se non recuperiamo tutti i diamanti, reclameranno quello che una volta era il loro mondo. Non abbiamo più tempo. I due mondi hanno già iniziato ad unirsi. Perché seppur con sette paiali e un peso di stadera, non si trovò il fondo. Della corga neva.